Salve ragazzi, rieccoci con la seconda parte del video che ho interrotto un po' per il tempo e un po' perchè volevo farne due parti per rendere comodo la visione, ecco, e niente allora vediamo un po' se mi ricordo cosa stavamo facendo, ok ci mancavano se non sbaglio delle scale, è meglio andare a dormire, sono un po' debole oggi ragazzi che ho fatto una cosa veramente che inizialmente avevo paura ma poi mi ha fatto stare veramente meglio a pensare quello che praticamente avrebbe dato come conseguenza, diciamo sono andato a donare il sangue, avevo una paura matta ma poi dopo quando sono stato lì sono stato veramente bene, sono stati veramente simpatici, ho fatto la colazione gratis, una bella colazione sostanziosa e so che se il sangue mio va bene può aiutare qualche vita, quindi vi invito se siete maggiorenni ragazzi a fare questa cosa perchè veramente sembra una cosa terrificante ma veramente vi dico è una bella sensazione, si sta bene, si sta ok, allora dovevamo scendere giù di sotto dopo questa piccola, un secchio si ragazzi perchè ci vuole un secchio, dovevamo farne due, chissà se c'è del fardo, del dusty fardo, no c'è un ingrotto solo, volevo fare due secchi, facciamo due secchi al volo, eh spaccano no? Adesso l'ho fatto, è nuovo, ah non fa rumore veramente, non riesco a capire perchè non fa rumore, devo segnalare al modder, modder che è totten98 che voglio salutare in questo video e ovviamente vorrei ringraziare davanti a tutti quanti perchè anche grazie a lui che le mod vengono installate, anche se è un pochettino, diciamo che non ha molta voglia, perchè non è, vabbè ovviamente è un'operazione un po' abbastanza non lunga, però ci bisogna perdere del tempo e quindi ovviamente magari, ovviamente ognuno ha i suoi problemi di tempo e non può fare, vabbè non mi voglio metterne i affari suoi, ecco, e quindi lo volevo salutare pubblicamente, se volete iscrivervi al suo canale è youtube.com slash totten98, è giovincello, però il lavoro è venuto fuori bene. Quindi totten98, visto che sicuramente stai visualizzando questo video, vedi un po' perchè non vanno questi suoni dell'industria, di sta mod, dai su, ecco. Allora, voilà, due lingotti li abbiamo fatti, facciamoci un altro secchio. piccone, ecco, meno male che l'ho visto adesso, perchè ho visto che c'è il piccone semi finito, legno, ce l'abbiamo abbastanza, allora. ok, mi sono rimesso a fare questo video, scusate per il tempo che ci ho messo a fare la seconda parte, ma stavo facendo la progettazione di una piazza, ho detto, ma così quasi mi fermo, nel frattempo faccio il video e poi dopo, nel frattempo che disegno, lo metto a caricare, ho detto, così almeno usufruiamo del tempo, sicuramente poi dopo li cadrò. e così tra un progetto e l'altro, ah no, l'avevo fatto, ok, perfetto, ora, ehm, allora, qua, ah, ma sempre mica mi spavento questo scheletro, allora, voilà, e mi fa il piccolo animal, ok, sorgente d'acqua infinita, prendiamo un altro secchio, perchè non mi ricordo se non sbaglio se era 15, quanto l'acqua si propaga, eh sì, mi sa che è un bel po', allora, quindi dobbiamo andare avanti, sicuramente, sperando che scavando di qua non troviamo il vuo che visto che di dietro c'è la miniera, uffa, se la odio la sabbia, ragazzi, non so voi, ma nello lì, uffa, qua mi sa che, ok, 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 questo è il limite di dove arriva l'acqua, ok, raccogliamola di nuovo, e se no qua, voilà, acqua asciugata, perfetta, perfettamente perfetta, mi sa che ho copiato la frase, no, va bene, ho detto, perfettamente perfetto, ok, quindi va bene, non è plagio, per il momento, ragazzi, questa, diciamo, fabbrica di scheletri, sì, va bene, non è l'acqua dove arrivava qua, giusto, no, oh merda, da dove sei uscito, bastardo, ma si è sbloccato mica, va, mi sa che si è sbloccato, ma non volevo dire, vabbè, anche qua dietro mi sa che ci sono un bel po' di, vabbè, allora, l'acqua arrivava, allora, qui dobbiamo fare un bel flusso, alto, profondo 3 se non sbaglio, e poi se non erro va riempito anche d'acqua, qua, questa era una vecchia trappola, ecco, non fabbrica, una trappola che ho visto da un utente di Youtube, che non mi ricordo il nome, se no avrei detto, niente, qua dovremo fare tutto di vetro, quindi, ovviamente per vedere i mob, eh, non per motivi tecnici, tecnici, perfetto, adesso ci mettiamo una torcia che poi toglieremo, il vetro? Il vetro? Già fatto un error Vediamo che la sto facendo giusta E mi ricordo che si faceva così Allora poi qua se non sbaglio c'è una acqua Sì? Così? Allora apriamo a droppare Vediamo un po' se... Aspetta, prima dobbiamo riempire Io ce l'ho due secchi Qua l'ho portato uno solo L'ho svuotato uno solo Allora, non so se sto parlando A bassa voce, se sto urlando perchè c'ho le cuffie Non riesco a capire niente Ok Sì, sì, mi sa che così andava fatta L'avevo fatta anche su un server E funzionava Speriamo bene Ok Quindi, va, proviamo a droppare Dovrebbe tirarla giù la roba Allora Sì, droppiamo per ritare Sì, ok, perfetto Va benissimo Qui la trappola è pronta Bisogna metterci dell'acqua Ovviamente c'è dell'acqua che tira giù così Così almeno quando cade lo scheletro Fatica Fatica a risalire Non mi ricordo Allora, no Forse sbagliato Andava messo un cubo più basso No Non mi ricordo Porca vacca Gli sa che andava fatto ancora più basso Andava fatto Perché poi lo scheletro quando cade Dopo non riesce a risalire Andava fatto ancora di un cubo più basso Sbagliato Allora Facciamo così per asciugare tutto Mettiamo le spugne Boh, magari funzionava anche così eh Non è che non funzionava però Oh, non ho trovato ancora un minerale scavando qua Com'è sto fatto? Stai a vedere Niente minerale Solo acqua La battuta proprio deve ammazzarsi Ok Vetro Ah, dopo devo mettere anche le scalette Vabbè ragazzi Io qua sto mettendo il vetro perché dopo Da quest'altra parte Dove adesso c'è la terra e pietra Lì sarà tutto quanto vuoto E praticamente da lì sarà dove prenderemo la roba Adesso l'importante è fare la fabbrica Vabbè potremmo fare anche in un'altra maniera Comunque si va bene anche così L'acqua L'importante è mettere da tutte le parti l'acqua Tutti i cubi sotto perché magari se no fa la corrente Fa la corrente male fa per quello Per farla arrivare bene dritta Vabbè poi queste sono questione di scelte effettivamente Ho già sparato uno scheletro Con tuo rumore d'acqua Forse c'è di là Anche dell'acqua dall'altra parte Guarda Sicuramente chi mi sta guardando dice Ma come cazzo la sta mettendo st'acqua Ok Ah ma qua era anche finita era Ah ecco non mi ero accorto Bene allora qua funzionerà senz'altro Allora quindi l'acqua la prendiamo da qua Qua già possiamo attappare mi sa Mettiamo con la cobblestone Bastardo Ah un bug di texture Ok C'è pieno di scheletri di là allora Vabbè Contenti loro Ok allora Mettiamo qua l'acqua Teoricamente qua adesso è entrata una sorgente infinita infatti Ah qua è scesa adesso Che coglione No dai Non possiamo fare questa maniera qui Allora prendiamo lì e facciamo prima dai Occhio a non cadere dentro ragazzi Perché poi per risalire Dobbiamo di nuovo rompere Facciamo sto lavoro Perché non c'è quello di rincoglionirmi Deve stare tutto il video Farmoli Adesso dovrebbe essere diventata infinita No Basta dai non mi interessa La prendo da qua l'acqua su Eh che ti incazzi Non mi risolvi niente Oh merda ci stavo andando spedito Piove? Ah nevica Quei neve Ecco perché Ecco perché era incazzato lo zombie Gli fa freddo Poverino Poi ti do fuoco Dai facciamo così Scaldi un po' Ok Quindi lo Lo Si lo zombie Lo scheletro quando cade qua dentro Teoricamente dovrebbe annegare Poi dopo il drop se lo porta via giù sotto il macchinario Ora occorre mettere L'acqua qui E fate attenzione a non cadere A non cadere Mi è scappata da una Una è aperta Perché se andate giù di sotto Come al solito dovete spaccare tutto Un po' Un po' Complicato qui Già finito? No E l'altro giorno ragazzi ho provato a fare una sorgente d'acqua infinita nel mio giardino qua di casa Ragazzi oh non ci crederete Non ci sono riuscito Non riesco a capire come mai Ho fatto un cubo 4 metri per 4 E ci ho messo una L'ho riempito d'acqua Dopo un po' non ci ho trovato più Qua Come cazzo è il mondo questo Allora Quindi Oh Schiacciavo shift Convinto che non cadesse Ah di nuovo l'hai aperta Non cadessi E invece Vabbè Allora Come chiudiamo qua? Chiudiamo con del vetro ovviamente Oh c'è troppo casino qua sopra Vabbè tanto non arriva la tua rumora Eh Ma vaffanculo Ok Vediamo Adesso sblocchiamo semplicemente lo spawner Finiamo qui e E poi ritorniamo a casa Sto mettendo l'allarme Poi i scheletri ci passano Ho fatto una cazzata Se non ci passi l'armi Sì al limite poi veniamo a romperlo Adesso ci metto un cubo qua Guardate adesso come cado giù di sotto eh Ok Allora Scaviamo qua solo per sicurezza Per far cadere i mob dentro Ho messo anche troppe torce secondo me Devo toglierle Oh oh Ho sbagliato Vabbè Vabbè Poi li sistemeremo da un'altra parte Torcia via Fa niente che cadi Torcia via No no Andiamo a prendere quello Senza solamente Ok via Adesso ci facciamo una chiusura di vetro Volo Volo Allora Siamo pronti? Dobbiamo rompere lo spawner ragazzi Lo spawner Ecco Ecco Ora Chiudiamo al volo Poi quando spawnerà Allora giù ci ho lasciato una torcia Porca vacca Vabbè Non è quello che influisce E Niente Per il momento qua ci lasciamo aperto Cioè Chiuso così Poi lo sistemeremo bene dopo Ora saliamo su Facciamo la scalinata per bene Così almeno Riusciamo a salire ogni volta Sì ma io ho quattro scale Va bene Poi lo sistemiamo dopo Comunque più o meno una trappola ragazzi L'avete capito Come funziona Ora saliamo su E E Non so se faremo una parte 3 O se facciamo direttamente un altro video Penso che faremo una parte 3 Di questo video Perchè comunque Questa trappola ci ha voluto Ci ha voluto un po' più di tempo Del solito Ora cerchiamo di uscire senza farci ammazzare Poi costruiamo un bel pozzo qua Magari faremo direttamente una speciale da casa E niente ragazzi Scusate sempre per la noia Scusate se divido il video in 3 parti Ma purtroppo il tempo è quello che è E niente Grazie mille sempre per la visualizzazione Come al solito Se vi piace il mio canale Iscrivetevi Se vi piace il video mi piace Se non vi piace Non mettete non mi piace E niente Grazie ancora E ciao a tutti ragazzi Alla terza Al terzo No Al terzo Al terzo cosa Alla terza Oh Alla terza parte del Alla terza parte di questo video Dove illustriamo come Dove illustro Come fare una trappola per gli scheletri o mob in generale Grazie ancora e Ciao Adios